Ogni 40-48 giorni il sistema attraversa un certo ciclo. Compariranno tre giorni in cui il tuo corpo non ha bisogno di cibo. Se fai questa pausa, fa molto, molto bene alla tua salute e a come funziona il tuo corpo. Può portarti a dimensioni completamente diverse di esperienza e di vissuto. Se osservi il ciclo naturale del corpo, c'è qualcosa che si chiama un mandala. Ogni 40-48 giorni il sistema attraversa un certo ciclo. In ognuno di questi cicli, in ogni singolo ciclo, appariranno tre giorni in cui il tuo corpo non ha bisogno di cibo. Se sei consapevole di come il tuo corpo funziona, diventerai consapevole che oggi il mio corpo non ha bisogno di cibo. E senza nessuno sforzo puoi fare meno del cibo quel giorno. Se osservi questo ciclo correttamente. Se questa consapevolezza non c'è riguardo a quale giorno sia, per questo in India hanno stabilito quello che viene chiamato Ekadashi. Significa che 4 giorni prima della luna piena, 4 giorni prima del giorno di luna nuova, le persone non mangiano. Si svegliano la mattina, niente colazione, niente pranzo. Solo dopo che il sole tramonta, mangiano un pasto. Questo è semplicemente per permettere al sistema di riallinearsi. Se fai questa pausa, fa molto, molto bene alla tua salute e a come funziona il tuo corpo, perché il sistema ha bisogno di quel tempo per regolarsi. Ogni giorno cibo, ogni giorno cibo. È tanto lavoro pesante per il corpo. Dagli una piccola pausa. Se non riesci a digiunare, un giorno vai avanti con qualcosa di più leggero, magari solo succhi o qualcosa d'altro che sia molto più leggero da gestire per il sistema. Decisamente il corpo ti sarà molto grato. Sì, ogni giorno caricarlo con del cibo cucinato non è una buona cosa da fare. Quindi, qual è la sua importanza spirituale? Perché è una purificazione. Se il tuo sistema non è vivace, non avrai voglia di fare niente di spirituale. Ti senti letargico. Per un meditatore, il nemico più grande è il sonno. Stare seduto qui con gli occhi chiusi e completamente allerta richiede qualcos'altro. Per la maggioranza delle persone, se chiudono gli occhi, è sonno. Quindi, stare seduti qui ed essere molto allerta con gli occhi chiusi richiede un certo livello di vivacità nel corpo. Quindi, per creare questa vivacità, osserviamo come mangiare, cosa fare, quanto mangiare, tutte queste cose. Non è spirituale, ma fornisce il tipo di corpo giusto. In questo momento, se il tuo corpo si sente molto letargico, io parlo di illuminazione e quindi... Non è così? Quindi, mantenerlo vivace, allerta e mantenere il corpo privo di dolori e problemi è importante, perché solo allora cercherai qualcosa di più grande. Adesso la tua gamba ti fa male. Davvero male. Dio appare. Cosa chiederai? Il dolore alla gamba deve sparire. Sì o no? Cosa chiederai di più? È tutto ciò che chiederai, non è così? Perché il corpo ha questo tipo di potere su di te. A meno che tu non lo mantenga ad un certo livello di agio, ti governa da ogni direzione. Non è così? Per questo, mantenere il tuo corpo molto puro e in salute è importante. Altrimenti, il corpo diventa la forza dominante nella tua vita, non ti permetterà di pensare oltre. Al momento, se qualcosa inizia a farti davvero male nel tuo corpo, solo il tuo mignolo inizia a farti davvero male. non ti interessa Dio, l'illuminazione, la meditazione, niente. Ti interessa questo qui. Non è così? Quindi, questo ha quel tipo di potere, quindi devi mantenerlo felice. Solo allora ti permetterà di fare qualcos'altro. Altrimenti non te lo permetterà. Quindi, in questo contesto, digiunare, qua e là, dare al corpo una pausa per recuperare, recuperare la sua vivacità, non diventare letargico con il cibo, è importante. Invece di digiunare, se semplicemente mantieni una pausa sufficiente tra un pasto e il successivo, se ti dico questo, abbandonerai lo yoga, la pausa ideale tra un pasto e l'altro è di otto ore, sempre. Se otto ore non sono possibili per te, una pausa di cinque ore minimo è necessaria. Devi sentire una certa sensazione di fame prima di mangiare. Prima di sentirti affamato, se metti del cibo nel sistema, il sistema diventerà letargico. Non conoscerà la vivacità. Quando dico vivacità, non parlo solo del fatto che tu sia sveglio adesso. Non abbiamo lo stesso livello di vitalità in questo momento. Ognuno di noi mangiamo lo stesso tipo di cibo, respiriamo la stessa aria, siamo nello stesso spazio, ma non abbiamo lo stesso livello di esperienza. In questo momento, come sono dentro di me, non lo cambierai per nulla al mondo. Se mi dessi tutto il mondo, non accetterei, perché questo è molto più grande di ciò. ed è possibile per tutti. Non è successo, semplicemente perché l'attenzione necessaria e cosa è necessario fare con il sistema non è stato fatto. Quindi, la vivacità umana può essere a vari livelli, in molte dimensioni diverse. Può portarti a dimensioni completamente diverse, di esperienza e vissuto, quindi mantenere bene il corpo è un requisito fondamentale. non devi essere un grande atleta o quant'altro, ma semplicemente mantenerlo semplice, che se sei seduto qui, non devi contorcerti tutto il tempo. Se ti siedi qui, per le prossime ore puoi semplicemente stare seduto qui senza essere infastidito da una vescica piena o uno stomaco affamato o questo fa male o quello fa male. Se sei seduto qui, stai bene. Quel tanto di agio deve giungere nel corpo. Musica Grazie a tutti.